Da lunedì chi bussa alla Caritas quale risposta in più troverà grazie al nuovo fondo? Calcolare che il lockdown del 10 marzo erano aperti su Roma 125 punti di distribuzione alimentare. Da quel momento abbiamo incontrato più di 7.000 persone che a causa del Covid o anche a rafforzamento purtroppo in senso negativo delle misure Covid sono cadute in una situazione di grande disagio, soprattutto di sofferenza di reddito. Massimo è il coordinatore che concretamente gestirà il progetto Alleanza per Roma. Ci accompagna negli uffici alla cittadella della Caritas dove gli operatori hanno già ricevuto nuove richieste d'aiuto, affitti, bollette da pagare, un carico di disperazione segnato dalla mancanza di lavoro. Quante sono le persone che potranno essere accompagnate? Mi sembra di capire che in qualche modo molte le conosciate già. Assolutamente sì, saranno accompagnate in base alla capienza del fondo. Ad oggi siamo in grado di accompagnare mille persone. Ci mostrano anche il portale su cui Kibussa sarà inserito non solo per ricevere il finanziamento, ma soprattutto per individuare nuove possibilità di lavoro. Dove in qualche modo viene fatta anche una descrizione di quella che è la situazione familiare, la situazione economica, soprattutto quali sono i suoi punti di forza, su cui poi si può andare insieme a costruire il progetto. Un approccio integrale, non soltanto economico. Assolutamente. Commossa la gratitudine a Papa Francesco per aver ascoltato il grido degli ultimi. Il motivo per cui siamo qui in questa vita, credo che sia importante raccogliere questo grido e dare una possibilità di un cambiamento anche di visione, di paradigma anche per il futuro dal punto di vista ecclesiale e sociale. Grazie. Grazie.